E' stato presentato ieri al Palanino Pizza il nuovo partner dell'Ital Service Calcio a 5 che collaborerà con la squadra per un anno. Stiamo parlando di Banca Megliolanum e la collaborazione è nata dall'incontro della private banker della sede di Rimini, Alessandra Cellucci, con il presidente biancorosso Lorenzo Pizza. Per noi è un piacere essere qui oggi, io ho conosciuto il dottor Pizza grazie a un comune amico e quando l'ho incontrato ho riconosciuto in Lorenzo Pizza quei valori, quella forza di passione che ogni giorno animano i private banker di Banca Megliolanum e quando una persona ha un sogno, ha un progetto e tu nel tuo piccolo puoi dare un contributo, beh se realizzi i sogni degli altri puoi anche realizzare i tuoi. Ecco, in cosa consiste questa collaborazione? Noi in questo momento ci facciamo portavoce dei valori di una banca che sul territorio è sicuramente conosciuta e vogliamo dare un supporto alle persone che lavorano, collaborano con l'Ital Service Calcio a 5 perché il dottor Pizza ci ha raccontato che ha dei progetti importanti e vogliamo dargli un supporto, perlomeno essere a fianco a un imprenditore di successo che vuole realizzare i propri sogni, ci rende onorati, insomma anche da parte nostra ci fa piacere collaborare con chi è un leader. Un partner importantissimo, un partner che farebbe invidia tantissimi, entra insieme all'Ital Service nel mondo del calcio a 5, quindi siamo veramente onorati di questo, siamo onorati e questo ci fa capire che comunque la nostra società si muove bene, ci stiamo muovendo bene. Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, per ultimo il presidente della divisione calcio a 5, Luca Bergamini, che tra l'altro è un uomo molto vicino anche al calcio a 11, quindi alla FIGC, quindi questo ci rende molto molto orgogliosi. Il ringraziamento sicuramente va a tutti i miei dirigenti, a tutte le persone che lavorano costantemente e assiduamente insieme a me quotidianamente nel quotidiano, a mia moglie che lavora tantissimo e sempre per questa meravigliosa società. Un grazie veramente di cuore alla dottoressa Alessandra Cellucci, responsabile dell'ufficio di Rimini di Mediolanum, che ha scelto la nostra realtà per diffondere il marchio in maniera sempre più consistente qui anche a Pesaro e nelle Marche. Allora, una breve sintesi di a che punto siamo con il campionato, obiettivi a breve termine. Allora, il campionato adesso entra nel momento clou, nel vivo, perché la prossima settimana inizia la Coppa Italia, che tra l'altro verrà giocata, ironia della sorte, proprio a Rimini, dove siamo partiti dall'ufficio Mediolanum, quindi al 105 Stadium, e verrà giocata dal 22 al 25 aprile. Poi, finita la Coppa Italia, ci sarà il recupero con l'Acqua e Saponi, il 28 aprile, l'ultima giornata di campionato e poi iniziano i playoff. Quindi una cavalcata meravigliosa, è il momento più emozionante, più bello, quello che noi tutti amiamo, perché diciamo è proprio quello che ci porterà alla Coppa Italia, alla finale Scudetto, ai playoff Scudetto. Speriamo di arrivare in ottime condizioni, perché come sapete tutti abbiamo avuto dei positivi nel gruppo, sembra che la catena fortunatamente sia stata interrotta, quindi speriamo di avere i giocatori al meglio, anche se sarà molto difficile, perché ancora in tanti stanno recuperando. Penso che il vero nemico in questo anno e mezzo è stato il Covid per la nostra squadra, perché in campo nazionale ed internazionale abbiamo fatto bellissime cose, continueremo a farle perché noi andiamo avanti, e avere una partnership così importante oggi è un momento di grande gioia, un grande brand che si avvicina a noi, in senso che ovviamente c'è grande accreditamento dell'Ital Service anche a livello nazionale, questo deve essere un momento di soddisfazione per il nostro Presidente e tutta la società, perché quando c'è una partnership così importante vuol dire che si pensa al futuro, si pensa a crescere, e si pensa a crescere con qualità ed alto livello. Presenti alla conferenza stampa che abbiamo trasmesso in diretta su Rossini TV, anche il Sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, e l'assessore allo sport del Comune di Pesaro, Mila della Dora. L'azienda Ital Service, Nino Pizza, era un'azienda storica di Talacchio, di Colbordolo Prima, oggi di Vallefoglia, e quindi per noi è un piacere, oltre che un dovere, esserci perché nella competizione internazionale è una delle aziende importanti, e anche per le attività sportive. È un onore storico, io ero molto amico anche col padre, con Nino Pizza, che era una delle prime aziende nella zona industriale di Talacchio, quando io da ragazzino già era sindaco, e quindi diciamo è una doppia soddisfazione dal punto di vista imprenditoriale, perché è un'attività che va bene, che sta potenziando le proprie attività, e anche dal punto di vista sportivo, e poi con Pesaro ormai siamo tutt'uno. Mi fa piacere essere qua, è una realtà del territorio che porta il nome di Pesaro, come ho detto, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Un grosso in bocca al lupo, il mio augurio da Sussurro allo Sport è che si possa rivedere presto un grande pubblico, come ci aveva abituato negli ultimi tempi di Ital Service Calcio A5, perché è quello che ci manca, è quello che manca allo sport, diciamo il sesto uomo nel caso di Calcio A5, è una componente importante, oltre che a ridare un po' vita e speranza a tutti noi.